Musica Teggiano, 28enne, tenta di uccidere il padre disabile. Cellulari e tumori dall'Istituto Superiore della Sanità è il risultato degli studi, l'uso del cellulare non espone al rischio di tumori. Nuove scoperte sull'uomo di Neandertal anche grazie agli studi di Oxford sui reperti nelle grotte di Castelcivita. Scuola, pubblicato il calendario scolastico 2019-2020, si parte l'11 settembre. Sanza, gran finale del meeting del Cervati, domenica 25 agosto, Massimo Ranieri in concerto e prodotti locali protagonisti in piazza San Francesco. Buonasera e bentrovati al nostro telegiornale. In apertura c'è la cronaca. Ieri sera Teggiano, un 28enne del posto, ha tentato di uccidere il padre disabile. Fortunatamente l'intervento tempestivo dei carabinieri ha scongiurato la tragedia. Ma vediamo i dettagli nel servizio. Un 28enne pregiudicato di Teggiano ha tentato di uccidere ieri sera il padre disabile. Fortunatamente non c'è riuscito grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. Il ragazzo era armato in stato di alterazione psicofisica a seguito di un litigio scaturito per futili motivi con il genitore 61enne, ipovedente, impugnando una roncola affilata e con lama di circa 45 centimetri aveva tentato di colpirlo alla testa. La sorella del ragazzo ha segnalato alla centrale operativa della compagnia di sala Consilina attraverso il numero unico per l'emergenza 112 quanto stava accadendo. Localizzata l'abitazione, è giunta subito sul posto una gazzella con due militari della sezione radiomobile. Sono riusciti a disarmare il giovane e a evitare che ammazzasse il padre. Nel corso della colluttazione per disarmare il ragazzo, un carabiniere ha riportato lievi lesioni alla mano sinistra. L'anziano, la moglie e gli altri due figli sono stati messi in salvo. L'arma è stata sottoposta a sequestro e il 28enne, che ora si trova nel carcere di Potenza, dovrà rispondere di tentato omicidio di una persona disabile, oltre che di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Voltiamo pagina. È stato pubblicato lo scorso 22 luglio l'ultimo rapporto degli studi effettuati dall'Istituto Superiore della Sanità per valutare eventuali correlazioni tra l'uso del telefono cellulare e la presenza di impianti di radiofrequenze con patologie tumorali. Dagli studi non si rivelano associazioni che porterebbero a ipotizzare un aumento dei rischi. Vediamo i dettagli. Pubblicato dall'Istituto Superiore della Sanità lo studio su relazione tra esposizione a radiofrequenze emesse dai cellulari e patologie tumorali. Dagli ultimi dati presentati si rileva che non trovano conferme le ipotesi su possibili danni alla salute. Nel rapporto pubblicato sul sito ufficiale dell'Istituto Superiore della Sanità lo scorso 22 luglio, infatti, relazionando sul lavoro svolto per analizzare gli effetti delle radiofrequenze, i ricercatori hanno constatato che le esposizioni a radiofrequenze da telefonini cellulari non favoriscono il sopraggiungere di tumori cerebrali e, più in generale, non porterebbero all'insorgere di altre tipologie di tumori. Lo studio effettuato in un periodo che va dal 1999 al 2017 ha consentito anche di valutare gli effetti in base anche ai cambiamenti della tecnologia. Secondo quanto emerso, pare che l'esposizione sia notevolmente ridotta da 100 a 500 volte con il passaggio dal 2G al 3-4G, che può ulteriormente ridursi attraverso l'uso di auricolari o sistemi vivavoce. Secondo lo studio effettuato dall'Istituto della Sanità, inoltre l'esposizione alle radiofrequenze si ridurrebbe ulteriormente laddove la copertura della rete è migliore. Nonostante siano aumentati nel tempo il numero degli impianti, dallo studio emergerebbe come in realtà l'emissione di radiofrequenze sia in realtà diminuita, probabilmente anche a seguito del passaggio dal sistema analogico a quello digitale. Grazie quindi al deciso e rapido miglioramento della tecnologia, si riescono a ridurre in maniera drastica i rischi per la salute. Il possibile insorgere di patologie tumorali potrebbe derivare solo in caso di esposizione in contemporanea a radiofrequenze ed altri agenti cancerogeni, ipotesi su cui si stanno effettuando studi e ricerche. In sintesi, nel rapporto ufficiale dell'Istituto Superiore della Sanità si legge, dagli studi epidemiologici condotti sull'esposizione a campi elettromagnetici e a radiofrequenze da telefonini mobili, non si evidenziano un incremento di rischio dei tumori cerebrali. Inoltre, essi non indicano un incremento del rischio di altri tumori nella regione della testa e del collo. Gli studi epidemiologici, si legge ancora, non indicano incrementi di rischio per altre neoplasie, inclusi i tumori infantili. Un gran numero di studi in vivo, ben condotti e basati su un'ampia varietà di modelli animali, hanno prodotto risultati prevalentemente negativi. Cambiamo argomento. Nuove scoperte sono state fatte sull'uomo di Neandertal dopo importanti studi condotti dagli archeologi dell'Università di Oxford anche sui reperti trovati nelle grotte di Castelcivita. Il servizio. Nuove scoperte sono state fatte di recente sull'uomo di Neandertal grazie a importanti studi condotti dagli archeologi dell'Università di Oxford che hanno preso in esame anche i reperti provenienti dalle grotte di Castelcivita, il cui ruolo è importantissimo nella ricostruzione della preistoria dal momento che conservano evidenti tracce della presenza dell'uomo di Neandertal che le abitava. Lo studio di Oxford condotto in collaborazione con diversi ricercatori delle Università di Genova, Trento, Ferrara e Siena è stato pubblicato su Nature ed evidenzia che l'uomo di Neandertal si è estinto ben prima di quanto si pensasse circa 40.000 anni fa. La sua scomparsa dal continente europeo è avvenuta gradualmente a macchia di leopardo dando così la possibilità di incontri ravvicinati con gli uomini moderni che avevano già fatto la loro comparsa in diverse zone come nel sud Italia. A rivelarlo è la datazione ultra precisa dei reperti archeologici raccolti in 40 siti sparsi dalla Russia fino alla Spagna e per quanto riguarda l'Italia in particolare sono stati studiati i reperti provenienti dalla grotta del Cavallo e dal riparo dello Scorsiuto in Puglia, dal riparo Bombrini in Liguria, dalla grotta di Fumane in Veneto e appunto dalle grotte di Castelcivita in provincia di Salerno. Secondo la nuova ricostruzione, l'estremo rifugio degli ultimi Neandertal prima dell'estinzione sarebbe stata la Francia circa 40.000 anni fa, mentre non ci sono prove che confermino la presenza di superstiti oltre questa epoca nella penisola iberica. I reperti esaminati sono stati sottoposti ad una innovativa tecnica di datazione ad altissima precisione, messa a punto nei laboratori di Oxford basata sulla spettrometria di massa con acceleratore. Ora parliamo di sicurezza. Continuano a contarsi casi di aggressione ad autisti dei bus, un fenomeno che si sta ripetendo ormai con troppa frequenza, tanto da spingere i referenti della Filt CGL a chiedere degli interventi. Gerardo Arpino invoca quindi l'intervento della Prefettura. Vediamo. Rinnova l'invito ad un incontro in Prefettura per arrivare a definire misure di sicurezza utili a difendere gli autisti dei mezzi di trasporto pubblico. Gerardo Arpino, sindacalista della Filt CGL, che ha inoltrato una nota dopo l'ennesima aggressione subita ieri da un autista di Sita Sud nel comune di Agerola da parte di alcuni utenti, scagliatisi contro il conducente a causa del sovraffollamento dell'autobus. È necessario, scrive Arpino, porre la massima attenzione sul tema della sicurezza nei mezzi di trasporto pubblico locale ed è fondamentale un intervento urgente. In questo ellennesimo atto di aggressione perpetrata ai danni di un conducente, basta ricordare che solo qualche settimana fa ne abbiamo avuto un altro nei confronti di un autista di Bus Italia. Oggi è toccato alla Sita. Bisogna ricordare che questi conducenti sono alla mercè, al centro della strada. Noi chiediamo da più tempi a gran voce un tavolo tecnico istituzionale in prefettura. Abbiamo inviato una nota congiunta, CGL Cislewil, al prefetto per tentare di aprire un percorso che possa saturare questa difficoltà. L'aggressione di ieri è avvenuta per un motivo abbastanza futile. In costiera si lavora e si viaggia in condizioni disperate a causa dei sopraffollamenti. Ieri un utente sicuramente stanco di aspettare ha aggredito da prima verbalmente e poi solo grazie alla bravura del collega non si è arrivato alle mani, ma questo utente ha distrutto a cazzotti la porta dell'autobus. Bisogna semplicemente sottolineare che la sicurezza da parte delle aziende non può essere vista come un costo, ma è una necessità sia per i conducenti ma soprattutto per gli utenti, perché bisogna ricordare a tutti, in primis a me, che il trasporto pubblico locale è un servizio sociale e quindi pertanto va tutelato. Abbiamo inviato una nota congiunta in prefettura per chiedere l'istituzione di un tavolo insieme alle aziende, insieme al prefetto per tentare di saturare questa emergenza. Attendiamo ancora oggi, è vero è stato un mese che l'abbiamo inviata, però capiamo anche i tempi tecnici, visto che siamo incontro l'estate, però come dicevo la sicurezza è una necessità. Pertanto invito a tutti gli attori principali di questa vicenda di stringersi intorno ad un tavolo, tentare di trovare una soluzione, una soluzione che tenga dentro tutti i problemi del trasporto pubblico locale e che possa finalmente mettere la parola fine a questa vicenda. Ora parliamo di scuola. Dall'ufficio scolastico regionale sono state definite le date di inizio e di fine del nuovo anno scolastico e relativo alle festività riconosciute. Un calendario che, secondo quanto spiegato dall'assessore regionale Fortini, è stato deciso insieme a sindacati e famiglie. I dettagli. L'11 settembre il suono della campanella è per l'inizio del nuovo anno scolastico 2019-2020. L'ufficio scolastico regionale ha infatti diramato il calendario di inizio e fine dell'anno scolastico, inserendo anche le date relativi ai giorni di vacanza stabiliti e, come spiegato nella nota di presentazione, riconoscendo anche agli istituti scolastici la possibilità di anticipare l'inizio delle attività scolastiche al massimo di tre giorni. Mercoledì 11 settembre, quindi, le aule delle scuole campane torneranno ad affollarsi con gli studenti che torneranno a sedere tra i banchi fino al 6 giugno 2020, giorno stabilito per la chiusura delle scuole. Fissate anche le festività riconosciute dall'ufficio scolastico regionale e quindi dello stop alle lezioni. Oltre le festività come da calendario in rosso, quindi del 1 novembre, dell'8 dicembre, del 6 gennaio, del 25 aprile, del 1 maggio e del 2 giugno, le scuole campane resteranno chiuse anche per ulteriori giorni. Riconosciuta la festività del 2 novembre per la commemorazione dei defunti, le vacanze di Natale inizieranno il 21 dicembre fino al 5 gennaio, si tornerà quindi a scuole il 7 gennaio. Riconosciuti i giorni di festa anche le celebrazioni del Carnevale con la chiusura prevista dei giorni 24 e 25 febbraio. Dal 9 al 14 aprile scuole chiuse per le vacanze pasquali. Due, infine, i ponti riconosciuti dal calendario presentato dall'ufficio scolastico regionale. Niente scuole il 2 maggio per il ponte del 1 maggio e il 1 giugno per il ponte della festa della Repubblica. Stabilite anche celebrazioni ufficiali che la scuola sarà chiamata a commemorare. Il 27 gennaio saranno ricordate le vittime della Shoah con il giorno della memoria. Il 10 febbraio commemorazione in ricordo delle vittime delle foib per il giorno del ricordo. E il 19 marzo la scuola sarà chiamata a celebrare il giorno della legalità. Per l'approvazione del calendario scolastico, spiega l'assessore Lucia Fortini, abbiamo voluto chiedere la partecipazione, oltre che del mondo scolastico attraverso i sindacati e l'USR, anche delle famiglie attraverso le associazioni di genitori per ascoltare anche le loro voci. Una scelta, conclude, dettata dalla volontà di rendere la scuola sempre più un luogo di inclusione e dialogo. Ci spostiamo a Salvitelle. Il buon esempio è sensibilizzazione dei cittadini al mantenimento del decoro urbano e compito sia dell'amministrazione che dei singoli abitanti di un paese. Con questa convinzione, il sindaco e gli amministratori di Salvitelle, insieme ai cittadini, stanno dando un grande esempio di responsabilità e cittadinanza attiva. Vediamo. Piccole attività svolte a titolo volontario di manutenzione e cura della cosa pubblica ad opera degli stessi abitanti e amministratori di un comune migliorano la vita di tutti. Lo sanno bene nel piccolo borgo di Salvitelle, dove gli abitanti, ognuno secondo le proprie possibilità e propensioni, stanno dando un grande esempio di responsabilità e cittadinanza attiva. In questo mese di agosto sono state pitturate le panchine e la fontanella di Piazza San Sebastiano e pulita la fontana di Via Fontanelle, oltre che le vie del Centro Storico. Si amministra anche con piccoli gesti e piccole attenzioni, dice la giovane sindaca Maria Antonietta Scelza, coadiuvata da una squadra di amministratori altrettanto giovane e fattiva che la supporta in tutte le sue iniziative e dice di ritenersi molto fortunata. Il primo cittadino e il suo team sono i primi a dare il buon esempio, partecipando con convinzione alle attività di pubblica utilità svolte a titolo gratuito, stimolando la comunità a fare altrettanto e ci stanno riuscendo. Tutti a Salvitelle stanno contribuendo alla causa, si taglia l'erba, si rimuovono i rifiuti, si puliscono le strade, si curano le aiuole. Partecipando al mantenimento del decoro urbano, vivono meglio tutti e ci si sente comunità. Il volontariato civico rientra tra le scelte politiche della nuova amministrazione al governo del paesino dallo scorso maggio. Ed è promosso, sottolinea la sindaca scelta, sia per far fronte alla penuria di fondi che non consente alle piccole municipalità di poter intervenire sempre sulle eventuali criticità, sia per sensibilizzare ed ed educare alla cultura della responsabilità i singoli cittadini. Ora ci fermiamo per un po' di consigli per i vostri acquisti. Ci ritroviamo tra poco. Bentornati in studio. Il consigliere di Battipaglia, Valerio Longo, interviene sulla questione miasmi e su quella dei rifiuti. Con un video di questa mattina invita le istituzioni ad intervenire. Ascoltiamolo. Salve, sono di nuovo Valerio Longo. Sono un consigliere comunale di Battipaglia. Giovedì 22 agosto sono le 8.30. Vi ho detto che volevo aggiornarvi rispetto a quello che sta succedendo. Siamo io e l'avvocato Monica Giuliano, assessore al comune di Battipaglia, davanti al sito di compostaggio dell'umido del comune di Eboli, in località Viale Francia. Si avverte stamattina in tutta la città di Battipaglia il solito tanfo, i miasmi insopportabili. Noi ci siamo portati davanti al sito di compostaggio per vedere la situazione. Adesso siamo entrati in macchina perché l'aria è veramente irrespirabile come nel resto della città ma qui davanti immaginerete anche gli insetti che ci sono. Abbiamo chiamato personalmente la Polizia di Stato e la Polizia Municipale che è intervenuta poco fa con una pattuglia e praticamente questa mattina verbalizzerà quello che ha sentito e quello che ha visto e soprattutto quello che ha sentito un tanfo insopportabile hanno gli agenti della Polizia Municipale di Battipaglia hanno scattato anche delle foto e girato dei video video di lavori che stanno allegramente come se si trattasse praticamente invece di rifiuti organici di sabbia o materiale non inquinante stanno eseguendo all'interno del sito dei lavori così all'aria aperta io chiedo di nuovo al sindaco di Eboli Massimo Cariello che cosa vuole fare sindaco di Eboli se ci sei batti un colpo io ho potuto constatare insieme all'assessore Giuliano che vengono fatti dei lavori praticamente all'aria aperta io non so se il sito del comune di Eboli di compostaggio è pressurizzato adeguatamente se vengono utilizzati degli enzimi degli abbattitori enzimatici che diminuirebbero il tanfo notevolmente e se la quantità di rifiuto lavorato presso questo sito di stoccaggio è in linea con i massimali che il sito stesso può sopportare io chiedo al sindaco di Eboli di dare queste risposte a giorni alterni verrò con altri colleghi del Consiglio Comunale di Battipaglia e dell'amministrazione comunale a verificare di persona come ho fatto stamattina e chiederò conto in questo caso alla massima istituzione di Eboli di provvedere affinché la cittadinanza di Battipaglia non per il futuro possa respirare finalmente liberamente Cambiamo argomento tutto pronto a Sanza per il gran finale del Meeting del Cervati un finale che porterà in Piazza San Francesco un artista di elevatissima caratura che regalerà al pubblico una serata di emozioni indescrivibili a partire dall'eventuno sarà possibile ascoltare la musica e l'arte di Massimo Ranieri una scelta che come sottolineato dal consigliere comunale Angelo Marotta è dettata anche dalla volontà di portare a Sanza una grande personalità del mondo della musica e dello spettacolo la serata conclusiva come invece ricordato da Francesco Bonomo membro dello staff organizzativo del Meeting del Cervati non sarà solo musica e spettacolo ma anche promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali e della storia del territorio ascoltiamo le interviste l'amministrazione comunale di Sanza gli enti e tutte le associazioni abbiamo confluito nell'idea generale che il vettore il volano dello slancio turistico non solo del comune di Sanza ma del Vallo di Diano in generale possa essere il Monte Cervati non a caso è la vetta più alta della Campania ha dei poli di attrazione che sono noti un po' a tutti e che giustamente devono essere valorizzati e quella è la nostra idea che sicuramente può essere il volano di un'economia che magari in questo momento è un po' stagnante questa è la decima edizione del Cervati Meeting l'ultimo evento nella nostra scaletta è rimasto quello di domenica prossima 25 agosto alle ore 21 e 30 il concerto evento di Massimo Ranieri noi siamo pronti ad ospitare una moltitudine di persone ma non solo per il concerto anche durante tutta la giornata non a caso contattando il nostro ufficio turistico è possibile fare delle escursioni guidate all'interno del paese quindi visitare il borgo quelli che sono i portali la torre medievale insomma dare un'ospitalità to cure a tutte le persone che abbiano voglia di passare una splendida giornata nel nostro comune inoltre poi l'area concerto come sempre è stata attrezzata per quanto riguarda il food e il beverage quindi ci saranno ci sarà la possibilità di mangiare di bere quindi passare una serata all'insegna del buon cibo e della buona musica questa rivisitazione del canto napolitano anni 50 anni 60 è rivisto in forma jazz quindi sarà accompagnato da un pianoforte eccezionale da una tromba tromba incantevole ma soprattutto dal sax di Stefano Di Battista che sicuramente allederà quella grandissima serata del 25 mentre noi stiamo come amministrazione ma come gruppo operativo diciamo del popolo di Sansa stiamo investendo sulla cultura anche sulla cultura musicale ma soprattutto quindi sull'aspetto ambientale quindi musica e ambiente che corrono parallelamente diciamo e vivono insieme questa nuova visione diciamo del nostro ambiente del nostro territorio che è la vita del Cervati soprattutto torna per il secondo anno consecutivo a Policastro Bussentino il Festival delle Idee congeniali in programma domani venerdì 23 agosto sul tema del rispetto per l'ambiente torna a Policastro di stand con diversi congeniali che mostreranno al pubblico le proprie idee l'edizione 2019 avrà come tema principale il rispetto per l'ambiente un tema sempre di stretta attualità e su cui la provincia di Salerno in particolare il Golfo di Policastro Cilento e Vallo di Diano si mostrano sempre attenti con diverse iniziative volte alla sensibilizzazione la mission del Festival delle Idee congeniali spiega l'ideatore della manifestazione Alex Pepe è quella di creare una serie di eventi che possano col tempo dare un contributo reale a questo territorio soprattutto attraverso manifestazioni sia culturali che di intrattenimento mirate a coinvolgere il più possibile i cittadini della zona e dove è possibile puntare a portare nuove presenze da altre città e regioni d'Italia durante la serata interverranno i responsabili dell'osservatorio meteorologico Raffelli che parleranno di allerte meteo in tempi di cambiamenti climatici ci sarà poi il designer di Frosinone Giovanni Vona in arte e hobby a raccontare la realtà dei Fab Lab in una simpatica chiacchierata divulgativa novità dell'anno un'area ristoro curata dallo chef Ivan Pepe che proporrà un vero e proprio menù congeniale le offerte raccolte sosterranno poi la realizzazione di nuove iniziative ora andiamo a Salerno si sono aperti ieri con la tradizionale cerimonia dell'alzata del panno il mese di festeggiamenti in onore del santo patrono di Salerno San Matteo una cerimonia a cui ha preso parte per la prima volta Monsignor Andrea Bellandi vediamo si è conclusa con uno spettacolo di fuochi d'artificio la cerimonia dell'alzata del panno il rito che apre ufficialmente festeggiamenti per il santo patrono di Salerno da ieri e per il prossimo mese fino al 21 settembre il panno raffigurante San Matteo mentre scatena una tempesta per scongiurare un'incursione saracena e salvare quindi la città di Salerno resterà essato sull'ingresso interno alla cattedrale ieri alla parte finale delle celebrazioni ha partecipato anche il nuovo vescovo di Salerno Monsignor Andrea Bellandi per lui era la prima volta l'alzata vera e propria è stata preceduta dalla messa nella cripta del Duomo di Salerno ufficiata dal parroco Don Michele Pecoraro a rappresentare il comune di Salerno il vice sindaco Eva Vossa mentre Pachi Memoli consigliera provinciale ha sostituito e rappresentato il presidente della provincia Michele Estrianese la devozione per San Matteo vi accompagni tutto l'anno ha detto il parroco durante l'omelia se siete veri salernitani non dovete ricordarvi di San Matteo solo una volta all'anno occorre invece coltivare un rapporto andando in chiesa e frequentando l'altare subito dopo la messa una piccola processione ha poi accompagnato il panno dalla cripta nel quadriportico del Duomo di Salerno e con questo è tutto per questa edizione grazie per averci seguito continuate a restare con noi e a tutti un'ottima serata grazie a tutti grazie a tutti